Dal prossimo lunedì 17 la Caritas di Roma attiverà il piano freddo diocesano in collaborazione con le parrocchie. Saranno attivati 140 posti di accoglienza straordinaria per i senza fissa dimora. Andrea Marini. La povertà aumenta e la Caritas ormana in questo che è il periodo più critico dell'anno per il gelo notturno guarda con preoccupazione e senza tetto sempre più numerosi per le strade della capitale. Così con l'abbassarsi delle temperature proprio dalla Caritas parte il piano freddo diocesano che da lunedì prossimo offrirà l'accoglienza per altre 140 persone. Accoglienza che si aggiunge ai 600 posti letto stabilmente operativi tra l'ostello Luigi di Liegro a Termini e la cittadella di Santa Giacinta al Casilino. Un piano che coinvolge 7 parrocchie le quali hanno offerto 66 posti e ne coinvolgerà altre subito dopo le feste mentre il centro di Santa Giacinta aprirà lunedì una struttura di emergenza per 74 persone. A fianco dell'accoglienza verrà intensificato il servizio notturno dei volontari che insieme ad altre associazioni come le bonsinerie apostoliche e il gruppo ABC dell'Ordine di Malta ogni sera presidiano anche con la distribuzione di cibo le zone dove senza tetto si concentrano o quelle dove possono rimanere isolati. Dalla Caritas la richiesta ai romani della donazione di sacchi a pelo è coperte da distribuire alle persone in difficoltà mentre domenica prossima, terza di avvento, quella della benedizione dei bambinelli nelle chieste di Roma si celebrerà la giornata della carità dove le offerte contribuiranno a sostenere proprio questo piano freddo.